L'ente luglio musicale trapanese resta intrappolato da suoi conti perennemente in rosso. Nonostante da più parti si parli di risanamento finanziario attorno alla società partecipata del comune di Trapani, i dubbi che vi eleggiano attorno sul piano finanziario periodicamente vengono esternati e diventano motivo di dibattito. L'ultimo esposto alla procura del dimissionario consigliere delegato Giovanni De Santis ha messo in risalto i soliti dubbi che aleggiano sull'ente. I conti sono in rosso, l'ente rischia di essere sopolto dai debiti, ci sono dietro delle responsabilità. A detta di De Santis sembra proprio di sì dal momento che il mandato lo ha rimesso proprio per questo motivo, cioè perché vi sarebbero dei dubbi sulla contabilità dell'ente. Bisogna andare indietro negli ultimi 14 anni per capirne di più, sono state le lapidarie parole del consigliere dimissionario. In maniera abbastanza esplicita quindi si fa riferimento non tanto a questa legislatura del sindaco Vito Damiano, quanto alle due precedenti sotto la gestione dell'ex primo cittadino Mimo Fazio, oggi consigliere comunale a Trapani e deputato regionale. A fare da scudo su quegli anni è sempre un ex consigliere delegato Antonio Galfano che parla di estinzione di debiti per oltre un milione e mezzo di euro. Il tutto grazie ad un'operazione di maggiori risorse garantite attraverso la contrazione di un mutuo, apporti straordinari dei soci, economie gestionali varie e un apporto straordinario del socio comune di Trapani accordato nell'ambito dell'operazione Palazzo Lucatelli assentita dal competente ministero. Ma che ben venga l'ulteriore indagine invocata in questi ultimi giorni, sottolinea Galfano, a condizione che finalmente si eseguano tutti i passaggi conseguenziali a qualsiasi livello e senza esclusione di colpi, a cominciare dal mio operato. Non credo che Mimo Fazio, attore principale dell'opera, sia contrario ad agire in tal senso. Il primo cittadino in carica ha evidenziato che nel 2016 l'ente non ha più un debito di circa 287.000 euro, ma di appena 19.000 euro, solo che le problematiche finanziarie restano perché può aver certezza come contributo soltanto dell'importo che concede il comune di Trapani annualmente e che ammonta 430.000 euro. Potrà proseguire nella propria attività, dice con ottimismo Damiano, in quanto può vantare, a differenza ad esempio della biblioteca fardelliana, di incassi delle somme per i vari spettacoli.